www.redigio.it e la storia continua E' un dialogo immaginario fra un bisnonno e un nipote e questa è la risposta del bisnonno, puntata 2. Caro nipote, hai superato quella che tu chiami barriera e barriera non è tra la vita e la morte. Mi è stato concesso di risponderti e di dirti alcune cose su di me e ancora di più, di aprire con te un dialogo sul passato e sul futuro. Vorrei cominciare a raccontarti com'era la nostra infanzia. Beh, nascere, lo sai, non è mai stato un problema. Sopravvivere per noi, sì. Perché le malattie hanno sempre fatto strage di piccoli. Perché la fame ha sempre fatto strage di ragazzi. Perché la miseria, soprattutto in certe zone, è sempre stata acuta. Io ho avuto spesso molto freddo d'inverno e qualche volta alla sera mia madre faceva fatica a dar da mangiare a me e ai miei dieci fratelli. Ma non essere angosciato, da quanto ti dico. Il mio mondo era così. Ma accanto alla tristezza, all'incertezza del domani, che si vinceva solo da adulti, ma c'erano momenti molto felici. E te ne voglio raccontare alcuni. Durante l'estate io e i miei fratelli, finita la scuola, eravamo liberi come l'aria. Ci rincorravamo per le strade di Milano, arrivavamo anche ai navigli e, oltre il ponte, trovavamo la campagna, aperta e verde. A piedi nudi correvamo sull'erba e ci distendevamo sotto gli alberi a guardare il sole e qualche volta alla sera le stelle. Seguivamo il lavoro faticoso dei contadini, li aiutavamo per avere qualche frutto. Ho imparato a usare la falce, a portare sulle spalle la gerla carica di erba. Ho gustato l'odore fumoso del formaggio che si rapprendeva nelle caldere e il sapore del latte appena munto. Eh, piccole gioie, dirai, ma importanti, dico io, perché quella naturalezza, quel modo di correre, di ansare, di faticare, mi sono stati impressi nella mente. E insieme mi dà felicità il ricordo di una roggia in cui ci immergevamo i piedi e del muro di un giardino che scavalcavamo per sentirci padrone di un angolo di terra, vietato agli altri. E il fuso di legno, della lippa, che si librava nell'aria, e della palla di stracci che facevamo rotolare. Ed è il tintinio di un campanello suonato alla porta di un palazzo per fare accorre la servitù di un nobile. Ed è il cavalluccio di legno, il mio primo giocattolo, che papà mi comperò quando andai a scuola. Mi dici che voi guardate al passato per trovare un senso della vostra vita. Guarda che non tutti lo hanno fatto, solo che il salto della memoria era breve. Si fermava al passato prossimo, all'infianza e alla giovinezza. Era, la nostra, felicità della vita e memoria della stagione più libera. Voi adesso non guardate più alla vostra infanzia. Voi ripercorrete strade più lunghe. Significa che la crisi è molto più profonda e l'insoddisfazione acuta che i termini di paragone vi sono venuti a mancare. Certo, intendo aiutarti per quanto posso. Scrivimi e ti risponderò. Ti dirò che cose eravamo rispetto a voi. E raccontami che cosa accade. Perché siete scontenti. Perché vi attrae più il passato del futuro. Devo però dirti subito che ho rilevato, nella tua amarezza, un aspetto preoccupante. Tu mi dici che la vita è diventata troppo veloce. Che l'esistenza vi trascina. Probabilmente è vero che la società è cambiata e che le macchine che vi hanno portato molto avanti. Ma ricordati, per quanto possa sembrare veloce la vita, non lo è in effetti mai se nel fondo della tua anima hai dei precisi alcuni valori. E anche ai miei tempi si diceva che tutto era cambiato, che il mondo era peggiorato, che gli uomini sembravano impazziti come formiche snidate dalla terra. E per quanto la mia esperienza mi consente, l'uomo è rimasto sempre lo stesso. E non guardare agli abiti, alle mode, persino ai fatti e ai personaggi della storia. Osserva sempre dentro, al di là dell'apparenza e nella sostanza. La velocità in sé non è un male, io credo. È neutra. Dipende da come la si prende. E la sicurezza, la calma, la forza che cerchi nel passato, devi trovarlo nel tuo presente. Non si può regolare la propria vita su fatti che sono fuori di noi, dietro di noi o davanti di noi. È la misura della modestia e dell'orgoglio, al tempo stesso, questo saper contare sulle nostre sole forze. Eh, caro nipote, ne riparleremo. Ma nella prossima lettera, offrimi la possibilità di termini di paragone più concreti. Prima ancora, attendi la mia seconda lettera su questo tema curioso della velocità. www.redigio.it E la storia continua.